il silenzio in sicilia non è stato distribuito con equità ci sono uomini che parlano sempre e altri che tacciono sempre di questi ultimi era mio cugino alberto lo zio e la zia avrebbero pagato chissà quale somma per sentirgli dire una parola impacciati come erano di versare il loro enorme affetto su un uomo che senza dubbio aveva una profonda vita interna ma che dal di fuori sembrava fatto di stoffa e di gomma alberto non si svegliava tardi ma si alzava dal letto tardissimo perché nessuno spettacolo piaceva ai suoi occhi come quello del buio fitto e gli spingeva lo sguardo nella tenebra che gli stava davanti ignorando se guardasse lontano o vicino e rovesciava la bocca per toccare con l'interno delle labbra l'orlo del lenzuolo che gli copriva anche il naso così passavano due ore poi si alzava in pantofole e permetteva l'ingresso nella camera di un piccolissimo raggio di sole aggerandosi nudo in questo barlume cercava nei cassetti e negli armadi rovistava gli ingombri che stavano sulle poltrone finché si chiudeva la porta e gridava un paio di calze la sua voce giungeva molto gradita in cucina dove la madre si asciugava lesta lesta le mani e mormorava alberto nello stesso momento il padre dallo studio gridava alla moglie chiama alberto la cameriera posata la scopa usciva dal corridoio dicendo chiama il signorino alberto la portinaia suonava il campanello del latrio per avvertire con una mano attorno alla bocca mi pare che chiami il signor alberto tutti speravano che quella mattina alberto avrebbe detto qualche parola in aggiunta alle solite ma poco dopo la speranza era svanita alberto prendeva in silenzio le calze dalle mani della madre e masticando amaro faceva capire che non gli piacevano se la madre domandava e vuoi un altro paio il figlio dava una spallucciata e sporgeva strette le labbra a mezzogiorno rincasando alberto non veniva subito a tavola ma andava a sdraiarsi sul letto con un piede sul pavimento e un giornale sportivo aperto dinanzi agli occhi se qualcuno bussava alla porta egli non rispondeva infine bisognava entrare e domandargli con garbo alberto perché non rispondi allora per non rispondere alberto andava a tavola e sedeva al suo posto coprendosi col giornale rosso dove sembrava che guardasse senza leggere di pomeriggio chiedeva le scarpe con la stessa voce con cui al mattino aveva chiesto le calze era il solo momento in cui la madre si augurava che gli non dicesse nulla perché se diceva sei parole queste erano infallibilmente che razza di vernice usate qui rincasava nel cuore della notte quando tutti erano a letto se nel corridoio appendendo il cappello all'attaccapanni faceva cadere un ombrello la madre dalla sua camera domandava alberto alberto rispondeva con un rumore sorto della gola molto simile a un colpo di tosse così da 27 anni viveva nel più assoluto silenzio quando si innamorò il segnale di quello strano avvenimento fu dato da una canzonetta precisamente non partir che non abbandono più le labbra di alberto la madre ascoltava stupefatta questo insolito e continuo suono che veniva dalle labbra del figlio pochi giorni dopo una vecchia signora svelò il mistero questi ragazzi come fanno presto a perdere la testa io ho promesso di non parlare e disse il nome e il cognome di una ragazza la dote l'indirizzo e l'età cominciò per alberto una vita singolare si alzava alle otto e andava a rifugiarsi nello stanzino buio in cui era impiantato il telefono lo stanzino faceva parte di un corridoio ma alberto rimise nei cardini una vecchia porta a vetri attraverso la quale chi passava per il corridoio lo vedeva curvo sul microfono e debolmente illuminato dal balcone che dava nel cortiletto parlava fino alle nove poi si recava all'ufficio dopo il pranzo tornava a chiudersi nello stanzino e ivi rimaneva a parlare dall'una alle quattro la sera spegneva la lampada centrale del corridoio e confortato dal chiarore rosso di una lampadina di tre candele sempre accesa davanti ad un'immagine sacra parlava per altre due ore calcolammo che questo giovane taciturno produceva continuamente parole per sei ore al giorno lo stupore crebbe col passare del tempo egli sosteneva già da tre mesi una simile vita in giugno si combinò un lettuccio sul cassone che stava sotto il microfono e sdraiato su quello con una tazza di caffè sopra una sedia accanto e la sigaretta in bocca continuava a parlare sommessamente coloro che entravano nel corridoio vedevano per ore e ore la punta delle sue ginocchia mossa da un leggerissimo dondolio poi egli apriva la porta a vetri e usciva insieme a una densa nuvola di fumo con un aspetto di vecchio gatto bruciacchiato una sera mi avvicinai alla porta a vetro e nascosto nell'angolo più buio drizzai l'orecchio verso il telefono alberto sdraiato sul cassone con le gambe ripiegate d'innanzi teneva stretto il microfono fra l'orecchio e la spalla e agitava continuamente le labbra egli parlava in modo così sommesso che neanche una sillaba raggiungeva il mio orecchio per il momento dubitai che una di quelle strane manie che sogliono impossessarsi dai vecchi spingesse precocemente mio cugino ad agitare le labbra vicino ad un microfono senza parlare a nessuno ma pochi giorni dopo incontrai la fidanzata essa mi informò che alberto le parlava al telefono per sei ore al giorno e che vivevano felici di questa conversazione la madre di alberto quando io le riferì queste parole impallidì per una casta e profonda gelosia e la sera uscito il figlio dallo stanzino andò ad immergersi in quella nuvola di fumo come se ancora vi sentisse il calore delle parole dopo un anno dal matrimonio incontrai la moglie di alberto e seppi che gli era tornato nella nuova casa al mutismo in cui era vissuto nella casa paterna confrontammo le poche parole che gli diceva alla sposa con quelle che aveva detto alla madre ed erano le stesse al mattino un paio di calze di pomeriggio che razza di vernice usate qui